Care studentesse, cari studenti, da lunedì sera sono online gli orari delle lezioni del secondo semestre di questo anno accademico, semestre che inizierà, come sapete, il prossimo 8 febbraio. Volevo rassicurarvi e garantirvi che l'Università ha fatto tutto il possibile per collocare in presenza il maggior numero di lezioni, nella convinzione che Università significa condivisione, significa presenza fisica nel campus, significa esperienza di socialità. Ovviamente, mentre parlo, non sono in grado di dirvi se saremo effettivamente in grado di aprire il campus l'8 febbraio. Non dipende da noi, dipende dalle decisioni che prenderanno le autorità civili e sanitarie e dall'andamento della pandemia. Mi rendo conto che questo genera disagio, è un disagio che noi subiamo quanto voi. Io vi assicuro capisco profondamente i segnali di disagio e di esasperazione che arrivano da tanti di voi. È una situazione molto difficile, ma dobbiamo affrontarla con serenità, con forza, con fiducia, nella certezza che ce la faremo. Noi, ripeto, siamo per andare in presenza. Se qualche volta ci faranno chiudere, riapriremo appena possibile. Nei prossimi giorni riprenderemo e intensificheremo anche tutte quelle attività, cosiddette di terza missione, negli incontri con professionisti dell'economia, del marketing, dello spettacolo, le attività di career service, per cercare, anche nelle condizioni difficili che ci sono date, di far sì che l'università resti quello che è e porti avanti la propria missione. Un po' di malcontento riguarda l'andamento degli esami. Io sto monitorando attentamente tutte le segnalazioni che arrivano in rettorato. Spesso purtroppo sono segnalazioni un po' contraddittorie. C'è chi vorrebbe esami più meritocratici, chi li vorrebbe più rassicuranti, chi accusa certe modalità di esame di promuovere tutti, chi li bocciare troppo. Ho istituito in questi giorni una commissione innovazione che cercherà di studiare approfonditamente e mettere a punto le modalità migliori sia per gli esami sia per la didattica a distanza, che io spero davvero sia ridotta al minimo. Se così non fosse, se così non dovesse essere, vi garantisco sul piano personale e istituzionale che farò tutto quanto in mio potere per far sì che l'università dia una risposta al disagio che molti di voi chiaramente manifestano. Ma in generale vorrei davvero ringraziarvi tutti per il senso di maturità e di responsabilità con cui state affrontando uno dei periodi più difficili, più complicati della nostra storia e della nostra vita.